Celebrato il quarantesimo anno di fondazione, il Coro San Carlo offrirà per il tradizionale appuntamento con il concerto dell'Epifania un'opera completa per soli, coro e orchestra mai eseguita a Pesaro finora. Appuntamento musicale fissato al 6 gennaio alle ore 16 nella cornice della Catedrale di Santa Maria Assunta. Non ci sono posti riservati, insomma, man mano che si arriva ci si può accomodare. e presenteremo un'opera in prima esecuzione assoluta a Pesaro che in realtà è un'opera di un grande compositore che è Haydn, è del grande repertorio sacro di Haydn, fa parte delle sue messe molto ampie, sviluppate in maniera molto ampia in cui ci sono arie, ci sono terzetti di solisti, ci sono passi molto drammatici così come ci sono anche passi virtuosistici del coro, passaggi fugati insomma, quindi è veramente come un florilegio musicale che in onore a un quarto di musica porta a un'elevazione proprio penso culturale ma anche proprio spirituale enorme per tutti. Nel risultato di questi mesi autunnali e invernali sono stati 3-4 mesi di lavoro intensissimo dove appunto avremo anche dei bravissimi solisti e abbiamo come sempre l'onore di collaborare con l'orchestra sinfonica Rossini con cui c'è questo veramente rapporto di stima reciproca anche di cordialità e amicizia e insomma la loro professionalità è discussa quindi aver avuto l'onore di poterli invitare per festeggiare con noi questo quarantesimo proprio come la ciliegina sulla torta per noi. Ormai siamo partner del coro da diversi anni, un coro importante, rappresentativo molto della città di Pesero e si ritorna in un posto anche molto importante anche se l'anno scorso già eravamo insieme in prefettura lo stesso che merita tutta l'attenzione ma da quest'anno credo che per la cittadinanza sia di nuovo ritrovarsi in un luogo importante ma soprattutto ascoltare queste persone che sono veramente molto molto in gamba e rappresentative.